Nel quotidiano tutto è finanza, perché tutto è capitale. Viviamo in un contesto capitalista, in una società capitalista, quindi chiaramente il denaro, sembra brutto dirlo, ma è centrale, perché senza il denaro non si può fare nulla. Live, eccoci Stefania, come stai? Ma in che parte del mondo sei tu? Io mi trovo a Milano, nella ridente Milano. Milano, la mia Milano, devi sapere che ho fatto un salto di recente. Io sono originalmente di Milano, vivo con l'Inghilterra da 11 anni, però ho fatto un salto di recente e un mio amico mi ha detto, dai, ti porto a vedere la Madonnina. E non ero mai stato in 50 anni, non ero mai andato in cima al Duomo. Ah, ecco, sui tetti, vabbè, è una cosa insolita, effettivamente, di solito si vede da giù la Madonnina, no? Solo i turisti vanno su e quindi ora che sono ufficialmente un turista, ecco, sono andato su. Scopri i dettagli della tua città. È vero, è vero. E vedi tutti gli investimenti, tutti gli investimenti non li vedi, però hai una visione dall'alto, mettiamola così. Stefania, e quindi tu sei in questo mondo, da quanti anni ti occupi giornalisticamente di questo mondo finanziario? Beh, già da qualche anno, già da qualche anno e devo dire che è un interesse sempre più crescente. A me personalmente appassiona molto e mi interessa molto l'aspetto dell'educazione finanziaria che tento di veicolare in ogni mezzo mio possibile, perché secondo me l'educazione finanziaria oggi come oggi è diventata centrale e importante anche per la nostra quotidianità. Assolutamente. Dove sei più attiva? Per chi magari non ti conoscesse sui miei canali e dici ok, dove trovo Stefania più attiva come media? Dal punto di vista dell'educazione finanziaria è certamente su Instagram, è qualcosa anche su TikTok, quelli sono i miei canali preferiti dove riesco ad avere più organizzazione nel trasmettere i contenuti. E poi sei anche però attiva sui media tradizionali, o mi sbaglio? Sì, anche in tv perché lavoro a Mediaset e quello è un altro aspetto del mio lavoro. Ma come trovi la differenza tra comunicare in televisione e comunicare sui social? Perché io quando ero ancora col cappello lungo mi ricordo che per sette anni ho fatto una trasmissione e tecnologia su Sky e devo dire che poi il passaggio di comunicazione sull'online ci ho messo un po' a decifrarlo. Ero molto insomma impostato televisivamente all'inizio, era una grande diversità ecco anche il codice linguistico eccetera. Tu come ti trovi in questo passaggio? Ma devo dire che non lo sento molto diverso. Cambia un po' l'istituzionalità perché durante il telegiornale è chiaro bisogna dare una notizia secca senza varie argomentazioni perché poi c'è il servizio o in un approfondimento fai parlare l'ospite e quindi è sicuramente un contesto un po' più istituzionale. Nei social network invece chiaramente la cifra cambia un po' perché diventa più colloquiale c'è un'interazione diretta anche con i follower che nel frattempo durante uno streaming ti scrivono e allora rispondi oppure hai le domande che chiedi prima di mandarti delle domande su un argomento e poi cerchi di soddisfare le loro curiosità. È un po' più on demand e chiaramente c'è un collegamento più diretto con chi ti segue. Questo penso che lo percepisci anche tu in quello che fai rispetto alla tua esperienza pregressa. Assolutamente. Io ho gente a volte che l'ultima volta a Milano uno mi ha baciato la pelata dicendo Monti ti seguo sempre sui social. Quando ero in televisione nessuno mi ha mai baciato la pelata. Eh perché lì si crea un po' di distanza invece i social network avvicinano inevitabilmente al pubblico. Perché se io ti vedo dal telegiornale poi non è che dico Stefania sei comunque la giornalista. Ti ho visto in televisione insomma c'è questo approccio anche un po' riverenziale ecco non so forse sui social c'è me. Beh sì sicuramente il contatto con il pubblico è diverso. E quindi si cambia anche la cifra linguistica. Il linguaggio è completamente... Non completamente perché alla fine la televisione si è anche modernizzata nel tempo. Quindi anche la tv diventa sempre più colloquiale e meno formale. Però è chiaro che una differenza c'è. E il pubblico a livello di preparazione sul tema finanziario quando ne parli o parli di questi argomenti vedi una differenza? Cioè parti con un'idea di una... Diciamo di una persona, di un pubblico di riferimento diversa. Come non so se io ti faccio un esempio. Parlo su Facebook, su TikTok o su LinkedIn sono tre pubblici molto diversi potenzialmente. Il contenuto è uguale però chi lo guarda ha una preparazione diversa ecco proprio in generale. Tu noti una differenza oppure è talmente tutto mainstream che più o meno la preparazione o in preparazione di base è uguale? Su questo tema è molto simile. È molto simile. Il fatto di avere un contatto con il pubblico web, un contatto diverso più immediato, più stretto rispetto al contenuto televisivo mi porta a sentire anche di cosa hanno bisogno le persone che mi seguono. Quindi quando io scelgo un argomento lo scelgo anche in base a quello che leggo, quello che sento, quello che guardo e mi rendo conto che forse serve quel tassello, forse serve spiegare meglio quel dettaglio lì e ho una sensibilità nei confronti del pubblico che mi permette anche di decidere l'argomento più aderente a quello che è il mio pubblico. Poi tendenzialmente cerco di fare un mix perché poi ci sono livelli diversi. C'è chi è che è più esperto di prodotti finanziari e quindi ha bisogno chiaramente di una cosa in più c'è chi invece deve essere alfabetizzato e allora parto un po' dalle basi quindi cerco un po' di fare un mix. Ci sono degli argomenti diciamo nella tua top 3 che dici so che se paro questi argomenti c'è sempre un sacco di ignoranza oppure luoghi comuni, i grandi classi, ce ne sono alcuni che individuano. Io parlo spesso di mercati finanziari, la lettura dei mercati per spiegare poi quello che c'è dietro e tutte le dinamiche che vengono fuori dall'attualità. Quando parlo di mercati finanziari sono seguita perché interessa la giornata sui mercati però dare quella nozione in più sul perché quel movimento si è verificato oggi mi dà, cerco di soddisfare attraverso l'attualità anche quello che mi chiede il pubblico. C'è un livello che hai come dire in questo momento individuato di preparazione sui temi della finanza da parte del tuo pubblico, degli italiani in generale, in base alla tua esperienza, in base anche ai dati che hai modo di vedere, di ricercare, come diresti che si posiziona il paese dal punto di vista? Allora l'Oxia ha fatto una ricerca qualche anno fa e ha posizionato l'Italia a un livello sufficiente con il nord Europa, ovviamente come sempre accade un po' più avanti, quindi per gli italiani le risposte esatte erano il 44%, per gli abitanti del nord Europa invece erano sul 60-70% facendo le dovute differenze tra i paesi. Sì, comunque è un livello sufficiente. Perché è importante l'educazione finanziaria? Uno perché ci serve alzare questo livello e perché l'educazione finanziaria è chiaro che serve in realtà tutti i giorni, cosa che a volte non è immediata, perché quando si parla di finanza si pensa che la finanza sia una cosa per chi ha i soldi, per chi deve decidere cosa fare e quindi al cittadino comune non interessa, ce la vede distante. La finanza invece non è così perché nel quotidiano noi percepiamo che tutto è finanza perché tutto è capitale. Viviamo in un contesto capitalista, in una società capitalista e quindi chiaramente il denaro, sembra brutto dirlo, ma è centrale perché senza il denaro non si può fare nulla. Quindi nel quotidiano è importante sapere cosa ci serve per sottoscrivere un mutuo, per fare un finanziamento e comprare il cellulare a rate, per scegliere un'assicurazione, l'assicurazione dell'auto oppure per fare un prestito. Quindi sicuramente sapere qualcosa di finanza, anche più della sufficienza è importante perché nel quotidiano ci serve e il contesto storico che stiamo vivendo, economico, che è incerto con un'inflazione sempre più alta, chiaramente ce lo impone. Il livello comunque sì, resta sufficiente, però c'è una tendenza spinta dalla pandemia dal 2020 al 2022, molte più persone si sono avvicinate ai mercati finanziari, hanno cominciato a sentire, a seguire l'attualità, a seguire i telegiornali, gli approfondimenti, soprattutto sul web, questo è un dato che viene riportato anche dallo studio della Consob, che è il primo punto di informazione e l'aspetto social network, ma anche la stampa del web, la stampa soprattutto quella specializzata. E quindi la gente ha cominciato ad informarsi e ha cominciato anche ad avvicinarsi molto di più al mercato e cominciare ad investire piccole somme e non soltanto attraverso quei prodotti che sono tradizionali come i bond, i titoli di Stato, i nostri nonni ce li avevano, i nostri genitori ce li avevano, perché era lo strumento più sicuro che ti garantiva un reddito. Ma adesso gli italiani stanno cominciando a specializzarsi, a chiedere più informazioni sulle azioni, su altri tipi di obbligazioni, su altri prodotti, sulla previdenza, la pensione. Sappiamo che in questo momento il sistema pensionistico italiano è abbastanza incerto, non tutti avremmo la pensione come ce l'avevano i nostri predecessori generazionali e quindi bisogna attrezzarsi e gli italiani, devo dire che analizzando alcuni studi ufficiali dati tra Consob ed Edufin, devo dire che gli italiani si stanno molto avvicinando e stanno migliorando il loro livello di conoscenza, perché già il 65% della popolazione sa cos'è l'inflazione e non è un dato da sottovalutare. E perché lo sa? Perché se ne sta parlando tanto, perché è da due anni che parliamo di Covid, di crisi economiche, di inflazione e lo vediamo quando andiamo al supermercato, perché quando c'è l'inflazione alta andiamo al supermercato e il pane, anziché costare un euro, costa un euro e cinquanta e 50 centesimi qui, 50 centesimi lì, pesa nelle nostre tasche e riduciamo il nostro potere d'acquisto e questo gli italiani lo sanno. Lo sanno e si chiedono come posso proteggere il mio capitale in base alle mie risorse, cosa posso fare per cercare di contrastare l'inflazione nel mio piccolo, perché poi a contrastare l'inflazione a livelli alti ci stanno le banche centrali, le scelte politiche, le politiche monetarie, eccetera, eccetera. E questo è un punto importante per il sistema economico italiano in generale, ma soprattutto anche per l'individuo, perché poi l'individuo vuole sapere, ma io con i miei soldi cosa posso fare, cosa devo fare, è meglio investire o no? Ma la solita, diciamo, storia, che poi sarà anche vera Stefania, del fatto che l'italiano investe nel mattone, lascia i soldi in banca, insomma c'è un po' questo stereotipo o forse reale, insomma, diciamo, tipologia dell'italiano medio che, come dire, non è un investitore, è un risparmiatore che però nel momento in cui risparmia lasciando i soldi in banca poi con l'inflazione in realtà non risparmia per niente, perché i suoi soldi vengono erosi nel tempo. È ancora così? Vedi un cambiamento da questo punto di vista? È ancora così, perché in un'analisi di Eurostat sui portafogli degli italiani, la componente della liquidità e dei depositi, dei certificati di deposito, è molto più ampia rispetto agli altri prodotti finanziari. Quindi sì, l'italiano è un po' più conservatore da questo punto di vista, però nel percorso storico le cose cambiano e quindi gli italiani cominciano ad avvicinarsi a strumenti finanziari diversi. Per esempio negli ultimi anni i fondi comuni hanno avuto un notevole slancio, perché c'è molta curiosità, si parla di diversificazione e quindi la quota del portafoglio leggermente comincia a cambiare, quindi abbandonare progressivamente gli strumenti finanziari tradizionali rispetto a quelli che prima, che esistevano comunque però erano meno considerati dall'investitore medio retail. Come definiresti, come spiegheresti che cos'è un fondo comune a una persona che non sa di che cosa si tratti? Eh, allora, un fondo comune, questa domanda mi piace tantissimo, mi piace tantissimo perché il fondo comune è un aggregatore di patrimonio, si mettono insieme tanti investitori, ogni investitore ha una quota, può scegliere se prendere una, due o tre, e si mette insieme questo patrimonio. Questo patrimonio va poi investito in alcune attività e quindi qual è il vantaggio per chi fa parte di un fondo comune che ha accesso ad una varietà di strumenti, poi dipende in realtà dal tipo di fondo che si va a sottoscrivere, però il fondo comune essendo comune è un fondo in cui si partecipano in tanti a questo patrimonio e poi ogni sottoscrittore ha lo stesso, ha uguali, uguali diritti. Spero di essere stata chiara, ecco, perché di solito lo spiego così. Trenta più, no, com'è che c'è, non c'è il più, non mi ricordo i voti, trenta è l'odio. Cioè il vantaggio poi è che con una piccola quota di denaro si partecipa ad un progetto più grande. Chiaro. Senti Stefania, per quello che riguarda invece le tipologie di investitori, differenze tra ad esempio uomini e donne, ce ne sono, non ce ne sono, che situazione fotografi? Le differenze ci sono poi soprattutto sulla composizione, perché l'80% degli investitori è composto da uomini, il restante sono donne, codecisori, quindi diciamo che la parte, lo zoccolo duro è composto dal genere maschile. È chiaro perché in una società anche di stampo patriarcale dove per tanti anni è stato l'uomo a lavorare, la donna restava in casa, è sempre stato un tema dominante per gli uomini più che per le donne. Lo sappiamo, negli anni poi le cose sono cambiate, ci sono donne single che pensano a loro stesse, però la tendenza è sempre quella di chiedere a parenti e amici sui prodotti finanziari da scegliere. Le donne hanno meno propensione al rischio rispetto agli uomini, gli uomini sono più propensi a rischiare delle quote di nano, anche se poi complessivamente gli italiani sono molto attenti a non rischiare troppo. Quindi la propensione al rischio in generale è molto alta, ma è predominante nelle donne. Gli uomini sono anche più interessati rispetto alle donne a tutta la questione del trading online, delle criptovalute. Quindi la differenza centrale è quella. Il tema che le donne sono più codecisori che decisori da capofamiglia, quello chiaramente è un tema anche sociale e culturale, che però nel tempo sta anche cambiando. Chiaro. E poi bisognerebbe anche vedere all'interno di una famiglia, magari chi firma è l'uomo di turno, ma la decisione magari è stata presa. Ah, allora sì, poi quello... No, in questo rapporto della Consob è stato selezionato un campione di investitori di cui l'80% era composto da uomini, sono state intervistate delle donne e anche un sottocampione di codecisori e alla fine la media è quella. Chiaro, chiaro, chiarissimo. No, faccio questa osservazione perché ho appena finito di intervistare una persona, non citerò, comunque l'ha detto pubblicamente l'intervista, ha detto, si parlava dei decisori in generale nel business e per fare un esempio, diceva ad esempio nella mia famiglia chi decide è mia moglie, cioè l'ha dichiarato, quindi però ufficialmente firma lui, insomma, però è chiaro che... Beh, vabbè, poi ci sarà una marginalità in questo studio comunque. Esatto, esatto, un margine. Nella mia famiglia è mio figlio più piccolo, senza altro che decide, in base a quello che decide, tutti eseguono gli uomini. Perché poi ci sono anche delle differenze dal punto di vista generazionale, perché i più giovani sono direzionati verso un tipo di prodotto, i più adulti verso un altro, poi si ragiona sul lungo termine, sul breve termine, insomma, le sfaccettature sono davvero tante, davvero tante. L'estra centrale è che comunque dobbiamo migliorare questa alfabetizzazione finanziaria, cercare di specializzarci un po' di più. Chiaro. Una riflessione che facevo e sulla quale mi interessava la tua opinione, Stefania, è veramente paradossale a volte vedere la quantità di informazione che c'è in giro, a disposizione, anche gratuitamente. Poi ovviamente, diciamo, gli addetti ai lavori hanno strumenti dedicati, abbonamenti specifici, insomma, più raffinati e precisi, magari rispetto all'utente normale, però diciamo, oggi tu hai una quantità infinita di informazioni, se ti metti lì online c'è l'universo, gratis. Dall'altro lato c'è un'enorme confusione, dove uno dice sì, è vero, c'è tutto, ma poi come vado a valutare quali sono le fonti credibili, oppure quelle che non lo sono. Cioè, è veramente complessa questa cosa. Ecco, allora mi domandavo se tu avessi qualche suggerimento per fare una buona selezione delle fonti, da dove partire, come orientarsi in questo mondo che è ricco di informazioni, ma molto confuso, ecco, almeno dal mio punto di vista. Molte persone hanno la tendenza a chiedere al proprio referente di fiducia, al proprio consulente, a chiedere delle decidazioni. Bisogna sempre partire, secondo me, perché si approccia dalle basi, da come funzionano i mercati finanziari, da come sono fatti gli strumenti finanziari e poi man mano specializzarsi. Ci sono tanti manuali, tanti libri che si possono acquistare, ma anche, come dicevi tu, gratuitamente su internet si trova tanto. Quindi basta fare una ricerca e affidarsi anche alle istituzioni, perché c'è un portale dedicato su gov.it, che è quello che conta.gov.it, è il comitato edufin, che dà tante informazioni. Poi c'è anche il portale della Consob, Consob che organizza anche diversi seminari. Quindi gli strumenti sono davvero tanti. Bisogna mettersi lì cinque minuti e metterci un po' la testa, ecco, sull'imparare per cominciare le nozioni base e poi man mano specializzarsi. Poi sono cose che, mentre si comincia a leggere, a studiare, si percepiscono come molto concrete, perché fanno parte veramente del nostro quotidiano. Perché se io vado a sottoscrivere una polizia assicurativa, voglio sapere da cosa è composta la rata che io andrò a pagare ed è importante capire qual è il tasso, qual è tutta la composizione, per fare anche la scelta migliore tra un'assicurazione e l'altra, per esempio. Oppure tra un fondo di investimento, abbiamo parlato dei fondi comuni, quindi tra un fondo e l'altro, sapere perché quello è più adatto alla mia situazione finanziaria piuttosto che l'altro. Quindi tendenzialmente mentre si cominciano a studiare gli elementi base, poi viene automatico specializzarsi, perché sono delle cose che riguardano davvero la nostra quotidianità e la dinamica tra domande e offerta, sia nel sistema bancario ma anche nel quotidiano. Io ho fatto l'esempio dell'assicurazione perché la facciamo tutti un'assicurazione banalmente per l'auto, ma anche il mutuo, adesso c'è la banca centrale ha alzato i tassi di interesse per calmirare l'inflazione, un giorno chi non sa nulla si sveglia e il proprio mutuo a tasso variabile, che era molto conveniente qualche anno fa, ha avuto un aumento di 300 euro, mettiamo una cifra. E allora io voglio sapere perché, ma perché? Mi dici perché e poi quando io so perché è accaduto questo alla mia rata, che di solito era il 30% in meno, comincio ad informarmi e scopro che ci sono dei metodi per cambiare. Puoi rinegoziare il mutuo, poi puoi sospendere le rate in base poi alle necessità, alle tue caratteristiche e tutto. Quindi ci sono anche delle soluzioni, ma se io non so che ci sono delle soluzioni, la mia tassa sarà più alta e io sarò impotente nei confronti di una cosa che può essere cambiata. Per quello è importante. Sì, è assolutamente fondamentale, anche perché a volte su questi temi uno decide così distinto. Quante volte io, non so, visto in banca uno che arriva e dice allora cosa mi consigli? Ma no, ma guarda, compra le azioni della Pippo e Pluto. Ma dai, ma comprami un Pippo e Pluto. Ma non sai neanche che. Zero. Così, al volo. Quindi è curioso come... E poi bisogna affidarsi sempre a professionisti del settore e non al cugino. Questa è una sindrome che c'è anche nel mondo tech, no? Dove spesso vai a chiedere delle informazioni a persone che dicono, ah, il mio amico fa, non so, i siti web e uno c'ha magari la multinazionale. Sì, sì, sì. Beh, qui in Italia, ti ricorderai, c'è il cugino con due G. Ebbè, certo. Quindi l'ho fatto mio cugino. Esatto. E quindi diciamo che sì, poi sono davvero tanti gli aspetti da prendere in considerazione, da studiare e non è difficile. Si pensa a un mondo molto distante, quello della finanza, ma non è così, perché abbiamo fatto degli esempi in questi minuti che riguardano proprio il nostro quotidiano, dal carrello della spesa all'auto, al mutuo e se vogliamo anche le bollette, se non sappiamo come funziona il mercato, cioè non sappiamo come gestire i nostri soldi. Ed è grave, perché comunque lavoriamo, studiamo per guadagnarli. Se attraverso un minimo di conoscenze in più, che non deve essere eccessiva, non dobbiamo essere necessariamente dei geni, basta avere quella conoscenza base che ci serve per fare delle domande centrali, delle domande puntuali anche ai nostri consulenti. Perché se io a lungo termine ho un progetto, ho il figlio da mandare all'università, oppure voglio fare un master, o voglio acquistare una casa, vado dal consulente e dico, senti, ma c'è una cosa, il mio obiettivo è quello, ci posso arrivare in qualche modo con quello che guadagno io, sì, no, si valuta. Però se io vado con un livello di conoscenza base dal mio consulente, il consulente mi può aiutare molto di più, perché sa che io ho degli obiettivi, ma se il consulente sì, mi chiede quale obiettivo hai, però poi io lì per lì per lì non ho idea, per il consulente poi è più difficile. E quindi... Assolutamente. Senti Stefania, per chiudere questa chiacchierata, ci sono delle... diciamo, apri la tua sfera di cristallo, ok? Spolverala un attimo. E... che è lì, spolvera un cazzo, è qui proprio. Dagli la spolvera latina. Dimmi che cosa vedi da qua ai prossimi 12 mesi, c'è qualche direzione, qualche trend che tu vedi, un'aspettativa rispetto al mercato, in questa situazione, che cosa, diciamo, qual è il sentore degli addetti ai lavori su quello che sarà la direzione che stiamo per prendere da qua un anno? Nella finanza in generale si parla molto di macro trend. Il macro trend è un trend che raccoglie diversi aspetti, tematico, un tema, che può essere la digitalizzazione. Negli ultimi due, tre anni abbiamo avuto un'accelerazione pazzesca, digitalizzazione che è pervasiva nella nostra vita, quindi quello è davvero un macro trend che a lungo termine può essere interessante da considerare. Sappiamo che avrà uno slancio davvero importante. Si parla già di metaverso, multiverso, insomma, come lo vogliamo chiamare, però integrare la realtà alla realtà virtuale, quello è sicuramente un tema da osservare. Poi c'è la sostenibilità, si parla tanto di criteri ISG, si investe non più selvaggiamente. Ora non vorrei demonizzare quello che è stato fatto prima, perché è stato fatto anche con scopi precisi, però dare un occhio alla sostenibilità è importante, sia dal punto di vista del calimento climatico, di quello che serve per l'ambiente, per lasciare alle nostre generazioni un mondo migliore, ma anche per calmirare i rischi, perché se noi ci troviamo in un contesto di eventi climatici avversi, mettiamo a rischio anche l'aspetto economico, perché i territori che sono interessati si fermano e quindi la sostenibilità è un altro macro trend che nella finanza funziona tantissimo. E poi c'è anche la salute. Durante la pandemia ce ne siamo accorti a maggior ragione, però la salute integrata anche alla digitalizzazione, quello è un tema anche interessante. Adesso si parla tanto di psicologi che fanno le loro sedute online per accorciare i tempi, per andare incontro alle esigenze del paziente, ma anche chi è che fa… prima telefonavamo al medico, davamo dei nostri sintomi, però per lui era molto difficile, ma se parliamo via web si possono incrementare delle tecnologie atte a fare una telemedicina e anche quello è un aspetto interessante, quello della salute, e poi vabbè, per non parlare della scienza, che chiaramente con la digitalizzazione viene sempre implementata. Quindi sono davvero tanti i macro trend che si possono osservare. E poi c'è anche il tema del fatto che la crescita demografica sia abbassata, la popolazione invecchia e quindi l'assistenza è anche un tema. Perché diciamo sempre che la finanza è molto vicina? Perché questi aspetti che vediamo ogni giorno, di cui parliamo sui social, di cui sentiamo parlare in televisione, sono legati alla finanza, perché qualcuno i progetti li deve finanziare. Sì. Quindi la finanza… perché per questo è importante. Io personalmente ci tengo tanto all'educazione finanziaria, chiaramente non sono l'unica. È importante proprio per questo, perché la finanza è il nostro quotidiano e non è così lontana. Mi hai fatto venire in mente Stefania, parlando della telemedicina, che io avevo un medico da bambino che quando mia mamma telefonava diceva sempre, qualunque cosa io avessi, va bene, una settimana a casa da scuola e aspirina, non so, due volte al dì. Questa era la telemedicina. Però diciamo che c'è stata un'evoluzione, per fortuna, e ovviamente tutto il mondo della finanza segue poi… Sì, oppure se avevi la febbre dovevi comunque andare, perché c'erano medici e ti volevano visitare di persona, però se sto male, ho la febbre, come faccio a portare ad arrivare fin lì, a guidare… insomma, diciamo che questi sono aspetti che poi, ecco sì, riguardo alla finanza, riguardo al nostro quotidiano, miglioreranno la società. C'è una sensazione, diciamo, di ottimismo, di pessimismo rispetto ai mercati? Macro trend da parte da qua ai prossimi 12 mesi, che aria tira? Ma la maggior parte dei gestori danno degli outlook positivi. Quindi tendenzialmente per il 2023 guardano con molto ottimismo, però dicendo anche… che il 2022 ce lo aspettavamo, anche fantastico, però non lo è stato, perché poi ci sono quegli eventi che non si possono prevedere, o comunque si possono prevedere in un certo senso, ma diciamo poi prendono una via completamente, diciamo poco auspicabile, per esempio il conflitto in Ucraina ha creato una tempesta nei mercati e nel sistema economico, sono cambiati gli equilibri geopolitici, questo non era previsto, negli outlook nessuno prevedeva una situazione così folgorante, è stata e quindi il 2022 è stato appesantito da queste dinamiche geopolitiche. Il 2023 sembra promettere bene, però insomma chiaramente con riserva, c'è il rialzo dei tassi della banca, le banche centrali stanno alzando i tassi di interesse per abbassare l'inflazione, l'inflazione ha già raggiunto il suo picco, sta cominciando a scendere, però ecco vediamo. Ottimo, beh diciamo segnale positivo di ottimismo, con prudenza però… Con prudenza, bisogna sempre essere prudenti in qualsiasi cosa, perché la prudenza paga sempre. Un buon segnale, Stefania ti ringrazio moltissimo e ci teniamo in contatto. Grazie a te, va bene, ciao ciao.